Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecné del 17 dicembre 2019 sulla fiducia del governo e su quali siano le preoccupazioni degli italiani. Continua ad aumentare la sfiducia nel governo, ora a bocciare l'esecutivo giallorosso è quasi il 70% degli italiani. Il sondaggio elettorale Tecné domanda agli intervistati qual è la loro maggiore preoccupazione. Il 64,8% mette in cima alle proprie preoccupazioni le tasse troppo alte, il 49% le pensioni basse, il 23% la crisi economica, il 12,8% la sicurezza personale, il 10,2% il degrado ambientale, il 9,8% l'inefficienza del sistema sanitario e l'8,7% l'inefficienza della pubblica amministrazione. In fondo alla classifica ci sono l'immigrazione 5,3%, l'inadeguatezza dei mezzi pubblici, la mobilità e altri problemi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a riscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook sulla pagina Tele Italia Notizie dove trovate tutti gli ultimi sondaggi, tutti i video che potete assolutamente condividere e commentare con chi volete. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.